Le rappresentanti di tutti gli organismi di parità uomo-donna presenti in Piemonte, consulta elette, consulta femminile, assessorato e comitato pari opportunità, consigliere di parità e consigliere regionali e provinciali, si sono riunite a Palazzo Lascaris il 16 luglio. L'incontro è servito ad abbozzare il programma della giornata nazionale contro la violenza alle donne, il 24 novembre, per la quale si organizzerà a Torino un evento di interesse nazionale.